I carabinieri del nucleo operativo hanno arrestato in flagranza di reato Gaetano Vinci, con 36 anni, e Antonino Di Maria, 41, entrambi disoccupati sieracusani e conosciuti dagli ambienti giudiziari per reati specifici. I carabinieri durante il servizio di pattuglia percorrendo via Piave hanno notato due uomini in sella ad uno scooter che appena hanno visto la pattuglia si sono allontanati in maniera sospetta. I carabinieri hanno quindi deciso di procedere al controllo del veicolo dei due a bordo, ma questi, capite le intenzioni militari, si sono dati alla fuga. Dopo un breve inseguimento, Vinci e Di Maria sono stati bloccati all'interno di un cortile condominiale di via Fuggetta dove si erano nascosti fra le macchine parcheggiate, abbandonando il ciclomotore poco prima. Dagli accertamenti, il veicolo era stato appena asportato dal box dove il proprietario lo custodiva. Il furto non era stato ancora denunciato dal proprietario che ne ha avuto notizia direttamente dai carabinieri. I carabinieri hanno riconsegnato il veicolo rubato al legittimo proprietario mentre i due responsabili sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. I carabinieri della stazione di Cassibile sono intervenuti in occasione di una violenta lite familiare tra genitore e figlio in cui quest'ultimo, con la pretesa di avere sommi di denaro, al culmine dell'ennesima lite aveva aggredito con schiaffi e insulti il padre, minacciandolo di morte e rompendo su pelletti gli oggetti d'arredo. Il litigio, solo l'ultimo di una serie di abbastanza lunga, ha visto protagonista un 21enne siracusano con precedenti polizia in materia di superfacenti che ha costretto le vittime e i genitori appunto a richiedere l'intervento dei carabinieri. I militari dell'arm, dopo aver tranquillizzato le vittime, hanno rintracciato a casa il 21enne e lo hanno condotto in caserma, una situazione familiare divenuta ormai insostenibile che ha determinato i militari a procedere al suo arresto per il reato di maltrattamento in famiglia e a sottoporlo agli arresti domiciliari in attesa del processo. Col rito per direttissime.